Tutte le paure che avevo per questo film si sono avverate. La campanella per non perdere i video che usciranno in futuro e magari lasciare un like, un commento e condividere il video. Bene, per chi non mi conoscesse o comunque non lo sapesse, io non sono un grandissimo fan di Spider-Man No Way Home, andiamoci per gradi. Ovviamente vedendolo in sala quella volta mi sono fatto accecare dal fanservice Becero dei due Spider-Man, di Villain, delle altre saghe, però poi vedendolo a casa già l'interesse e l'apprezzamento era sceso tanto. Non parliamo poi della terza volta rivisto in sala per l'aggiunta delle nuove scene, quei fantomatici due secondi di parlata in più tra i tre Spider-Man. Lì mi sono veramente tanto annoiato e c'è tanto di video in cui ho parlato sia di Spider-Man No Way Home che di Avatar che erano ritornati in sala nello stesso periodo. Bene, quindi avevo veramente tanta tanta paura che questo Deadpool e Wolverine, dati i diversi rumor, dati anche i diversi trailer, si potesse rivelare un po' Spider-Man No Way Home. Anche se gli stessi trailer facevano ben sperare. No, non è stato così, ho visto quasi un altro No Way Home. E a me dispiace veramente tantissimo parlarne in questo modo perché dopo Spider-Man, io parlo sempre a livello cinematografico, non sono un lettore di fumetti, non conosco tantissimi fumetti, non so la maggior parte delle cose, quindi parlo solo a livello cinematografico. Dopo Spider-Man il mio supereroe preferito è proprio Deadpool e poi sotto si trova proprio Wolverine, quindi i due protagonisti del film. E ripeto che appunto lo attendevo tanto, oltre alla paura c'era un po' di hype. Devo dire che sono ancora tanto tanto indeciso riguardo il mio apprezzamento per questo film, non so se mi è piaciuto, non so se non mi è piaciuto. Al contrario di No Way Home, essendo Deadpool, ho forse avuto modo di divertirmi di più perché ricordo ancora qualche battuta che mi ha fatto veramente tanto ridere. Sarà che il mio umorismo si allinea molto a quello di Ryan Reynolds che sembra aver avuto carta bianca all'interno della produzione di questo film e poi parliamo anche di questo fatto. Però c'è veramente qualcosa che non mi convince perché intanto tutto il discorso multiverso è sempre più confusionario. Nella multiversaga ancora né noi né soprattutto i Marvel Studios hanno capito come funziona il multiverso. Continuano semplicemente ad aggiungere sempre dei dettagli, delle aggiunte in generale che mettono tutto sempre più in confusione. E tra l'altro, essendo questo film all'interno dell'MCU perché abbiamo la TVA proveniente dalle due stagioni di Loki, dovrebbe essere un minimo congruente con l'universo che abbiamo conosciuto finora. E diciamo che in realtà Deadpool, quanto Shulk, ma quella l'hanno già sistemata fortunatamente, è veramente problematico perché rompere la quarta parete in un universo in cui questo fattore diciamo non esiste realmente, nessuno sa di essere in un film tranne Deadpool, appunto è già abbastanza distruttivo come fatto. Se poi ci si mette anche l'incongruenza con gli altri prodotti, di problemi se ne vanno a creare diversi. Ripeto che ho riso tanto, sia con le battute, per lo più era una sfondo sessuale, diciamo che Disney per fare vedere che non ha paura del rated R, ha cercato di evidenziare ed esagerare con tutte le battute che potevano fare, e non solo le battute, anche il sangue. Tutto in realtà qua è moltiplicato, è i primi due film di Deadpool moltiplicati per fare vedere che Disney non ha paura di dire le parolaccio, di mostrare gocce di sangue. E questo ok, ci può anche stare, appunto mi sono anche divertito. Ci sono diversi cameo, alcuni spoilerati in partenza, altri no, però in generale mi sarei aspettato molti più cameo di quelli che sono stati presentati. In realtà nella maggior parte dei casi abbiamo dei personaggi di terzo o quarto livello dei film della Fox. Io non capisco infatti quelli che volevano Tobey Maguire, Andrew Garfield e personaggi magari della Sony in Deadpool e Wolverine, perché era ovvio che questo film sarebbe stato una celebrazione all'universo Fox, a tutti i supereroi Fox, compresi anche i Fantastici 4 di Trench del 2015, o 14 quando è uscito con la merda, quindi non aveva assolutamente senso mostrare gli Spider-Man, Venom e robe varie, assolutamente no. Abbiamo invece i personaggi della Fox, alcuni solo citati, e non solo i mutanti. A me non bastano i cameo, non mi faccio più ammaliare, come è stato anche per No Way Home, dai cameo, dalle citazioni agli altri film, dal fanservice in generale. Io adesso, essendo anche un po' cresciuto a livello critico e cinematografico, voglio qualcos'altro da un film, che sia anche Deadpool e Wolverine, perché non è una scusa dire che questo è un cinecomic su un personaggio come Deadpool, perché è comunque un film. E invece mi sono ritrovato davanti un No Way Home, quindi un non film, perché è la stessa definizione che veniva usata per No Way Home, almeno da quelli che non l'hanno apprezzato come è giusto che sia. Un non film, ecco, Deadpool è un altro non film della Marvel. È solo una cozzaglia di fanservice, divertente, perché, ripeto, per l'ennesima volta ho riso, ma ad un certo punto c'è veramente, letteralmente, una sfilata di cameo. Pochi, ma c'è una sfilata di cameo. E non ci si concentra tantissimo sulla costruzione dei personaggi, assolutamente, nemmeno della trama. C'è una trametta piccola, sì, la trama non è importante in un film, possiamo dire tutto, ma quantomeno una scrittura degna, non che i primi due film avessero chissà che grande scrittura, anzi, si nascondeva molto sulla battuta metanarrativa, o che sceneggiatura debole, fortunatamente qui non l'ha detto, ma è una sceneggiatura molto debole, più degli altri due film, e poi quantomeno discutere tra le diverse produzioni, perché, avendo la TVA, dovrebbe avere un minimo di collegamento con Loki, invece sembra ambientato in un altro universo. E no, non ci sono diverse TVA, una sola TVA per tutto il multiverso, quindi non è una spiegazione. Quando con qualcuno di voi ho parlato in DM su Instagram, seguitemi lì se volete discutere un po', di questa somiglianza con No Way Home, sono stati tirati in ballo i crateri di sceneggiatura e di trama di No Way Home. Non che in questo film non ce ne siano, ce ne sono anzi tantissimi, appunto, le incongruenze con Loki, la presenza di un personaggio che non viene assolutamente spiegata in un determinato luogo, e poi in realtà le soluzioni per i diversi ostacoli che vengono presentati. Tutto molto semplice, appunto, una sceneggiatura debole. Ma concentriamoci sul fanservice, che è questo quello che ci farà fare il miliardo e mezzo, perché sì, ovviamente questo film raggiungerà il miliardo e mezzo, se non di più. Diventerà sicuramente il più grande successo al box office dai tempi di Avengers Endgame. Come ho detto, appunto, i personaggi non vengono approfonditi più di tanto, abbiamo, forse sì, magari un qualcosina su Deadpool, viene detta in aggiunta alla sua storyline che conosciamo già dai due film, ma Wolverine non è che venga esplorato così tanto. Abbiamo solo un piccolo accenno di cosa gli è successo in passato, questo è un altro Wolverine, non è quello morto in Logan, e lo scopriamo bene fin dall'inizio del film, sfortunatamente. Però io avrei giusto qualche domanda riguardo questo nuovo Wolverine. Però dai, chi se ne frega, hai il costume, è senza maniche, cosa vuoi di più? E mi faceva veramente tanto ridere gente dietro di me in sala che, appena finito il film, ha detto testualmente, CINEMA! Non fatemi dare ragione a Martin Scorsese, per favore. Anche la villa, in realtà. Io non è che abbia capito così tanto a cosa serva Cassandra Nova in questo film. Sì, è un ostacolo, leggero ostacolo, poi a un certo punto cambia totalmente, la cosa si sistema in due secondi, letteralmente basta una frase, poi ritorna per un qualche motivo e... Boh... Ok, perché sta facendo questo? Perché il tutto finisce così? Non lo so. Non è che il film si prenda la briga di rispondere, ovviamente. Ma chi se ne frega, hanno citato Charles Xavier. Dai. A livello di produzione tecnica comunque non è nemmeno così malaccio. Ci sono delle scene anche interessanti a livello registrico. C'è un piano sequenza che non mi sarei aspettato, anche abbastanza ben coordinato. In realtà i combattimenti in questo film sono ben coreografati, quindi Sean Levi almeno ha fatto un lavoro decente, abbastanza medio nella media come lavoro, ma non è brutto assolutamente. Quel piano sequenza invece mi è proprio piaciuto. Alcune scene sono anche composte bene, per esempio ce n'è una in cui, se non ci fosse stata una CGI di merda, veramente schifosa, la composizione sarebbe stata pazzesca, da nerd appunto avrebbe fatto impazzire chiunque. Ha fatto impazzire chiunque perché, appunto, non hanno controllato quella CGI terribile, in cui i due sembravano veramente pupazzi in plastica di proprio quelli scadenti, terribili, ma anche semplicemente quando stavano in piedi ci sono i manichini in CGI e si vede che sono staccati dallo sfondo e stranissimi nei movimenti. La colonna sonora è comunque anche interessante, dai, ci sono molte tantissime, anzi quasi solo canzoni pop fin dall'inizio. C'è solamente una track originale, se non sbaglio, ed è appunto LFG, e del resto invece sono solo canzoni di terze parti. Ben inserite sicuramente, un po' ripetitive alcune scelte di musica di sottofondo per alcune scene in rallenti, in slow motion, perché ormai è una cosa vista e rivista avere un combattimento sanguinoso, c'era anche in Fallout, per esempio, con sotto una canzone tranquilla, lenta e rilassante. Non è assolutamente più una cosa innovativa e originale, però sicuramente il primo Deadpool ha avuto un contributo, ha dato un contributo a questa nuova, a questo nuovo trend di scelta musicale in questi tipi di combattimento. Non dico che il finale mi abbia fatto schifo, c'è sicuramente qualcosa che si può salvare, però, boh, nelle ultime inquadrature mi è veramente sembrato un po' una copia carbone del finale del secondo film. Sì, non c'è più l'X-Force di supereroi, ma siamo arrivati lì, più o meno. Tornando velocemente a parlare dei cameo, però, uno tra tutti mi ha divertito e chi ha visto il film sicuramente avrà già capito di quale personaggio sto parlando, invece non mi sono per niente capacitato di quanto le persone dietro e davanti la mia poltroncina erano felicissime di trovarsi davanti alcuni personaggi che sono sempre stati definiti merda da praticamente tutti e gente che gridava vedendo davanti questo appunto personaggio, non faccio spoiler al momento, e io che dicevo ma fa schifo il film? Perché stai esultando vedendo questo? La Marvel riesce veramente a fare miracoli, io semplicemente sono i fan che si fanno andare bene tutto. E sì, l'ho detto. Stavo aspettando proprio di dirlo da tutta la recensione, ma, ragazzi, sono sicuro che questo film piacerà a tutti, perché tutti hanno apprezzato, tutti, prendete questo termine tra virgolette, diciamo, tutti hanno apprezzato No Way Home, e quindi apprezzeranno anche se non di più Deadpool e Wolverine, perché è No Way Home, ma più divertente. E questo almeno glielo riconosco. Io non sono più così. Volevo vedere un film su Deadpool e Wolverine, fortunatamente ci sono molto Deadpool e Wolverine, ma non è un film. È davvero dopo anni di attesa, perché aspetto questo film, questo Deadpool 3, prima che si chiamasse Deadpool e Wolverine, dai tempi della primissima foto pubblicata da Ryan Reynolds davanti il logo dei Marvel Studios, quindi sono passati anni di attesa per Deadpool e Wolverine, e ne sto parlando in questo modo. Quindi non potete capire quanto mi stia dispiacendo questa recensione, ma la Marvel è ancora defunta. Io sto parlando in questa... 시mmeno,